benvenuti alla conferenza della prima tappa del Giro d'Italia benvenuti al campione del mondo prima maglia rosa Filippo Ganna prima domanda, first question Ciro o Elsa? la stampa non si sente pronto? non si sente mi senti Pippo? eccoci ciao, complimenti ti volevo chiedere abbiamo sentito che le tue dichiarazioni sono state eri teso non eri favorito allora ti chiedo come è stato possibile conquistare una vittoria così convincente oppure come è stato possibile perdere le ultime cronometro, cos'è successo da allora adesso? comunque davvero complimenti, grazie Pippo beh diciamo che tornare a vincere non è mai facile soprattutto quando hai alle spalle tre cronometri che non sono andate bene siamo riusciti a riottenere questo grande risultato sono riuscito a recuperare bene dopo il tanto lavoro fatto in altura c'era gente che diceva già le prime polemiche perché Filippo non è competitivo perché è Filippo qua, perché è Filippo lì ragazzi facciamo una stagione che comprende dei 60-70 giorni di corsa non si può essere competitivi tutto l'anno o se si è c'è qualcosa che non va quindi a volte preferisci magari essere meno pronto per un appuntamento per essere poi in seguito siamo riusciti a ottenere questa bellissima vittoria di squadra perché alla fine io ho pedalato ma c'era chi comunque mi ha sopportato lungo e quindi ottenere i risultati non è mai facile siamo riusciti a farlo e adesso pensiamo a recuperare bene perché 20 giorni sono veramente lunghi e difficili questo giro sarà più duro di quello dell'anno scorso perché a parlare anche con il direttore sportivo Matteo ha fatto vedere le salite che saranno veramente importanti ho lavorato anche sulla perdita di peso quindi sono finito all'ultima età pederomandia che per la fatica perché comunque per non aver recuperato magari bene ero gonfio di liquidi, di fatica e ne ho pagato ma tornato qua in Italia comunque con un fantastico gruppo quello che siamo qui come Innos Granadier ha portato veramente i benefici di testa che mi hanno aiutato a tranquillizzarmi poi ovvio le poche ore prima della competizione credo che vai sul pullman di qualsiasi atleta gli chiedi se sei teso e ti dicono di sì quindi è cambiato semplicemente il fatto che quando voglio qualcosa cerco di ottenerlo sempre The question was Filippo you said you were not too confident before the start of this ITT what does it change between the last ITT and this one and the answer was winning again is never easy especially after some ITT that didn't go too well this is a great result I did some great work in some great altitude training I already read some polemics in the last few days about Filippo not being competitive anymore but the reality is that the season has more than 60-70 race days so you cannot be competitive all year sometimes you need to choose the appointments where you want to be 100% competitive this is a great victory for me but also for the team it's going to be a long and very tough Giro more than 2020 I also worked to lose some weight and that's also why the last few stages at Romandia I was very tired Enzo Vicennati dal Vanna Ciao Pippo, complimenti intanto l'hai già portata questa maglia e hai già sperimentato l'anno scorso che significa? Tu dici, hai detto prima tenerla il più a lungo possibile vuol dire sforzarsi di tenerla oppure la tattica della squadra è quella per la generale quindi seguire le tattiche della squadra? Di sicuro si guarda la squadra ho due grandi capitani la priorità va loro io logico cercherò di portarla più a lungo possibile però al primo arrivo in salita la vedo impossibile a tenerla almeno che quel giorno io possa avere la forza di un leone col coraggio di una formica portare il doppio dei chili di quelli che può però la vedo dura quindi sarà una giornata che soffrirò soffrirò tanto però sono consapevole del fatto che sono qua comunque in supporto del team sono qua a tenere unito il team sono qua a tenere l'umore alto questo è il mio obiettivo è cercare di finire questo 2021 come abbiamo finito il 2020 Filippo abbiamo domande dalla sala stampa? Sì Claudio Bonarrigo Corriere della Sera Ciao Filippo complimenti hai spiegato benissimo la fatica della tua vita della vostra vita di corridoi tu sei tantissime cose Filippo sei una pedina fondamentale per Ineos sei l'uomo decisivo per le vittorie per il cronometro per noi italiani sei anche il ragazzo che punta alle Olimpiadi su pista su strada ecco tutto questo carico di lavoro cioè come riesci a gestire così tante pressioni assieme non temi qualche volta che sia veramente tanto sia per il tuo fisico sia per a livello mentale questo carico enorme che hai di lavoro di responsabilità sai alla fine un atleta sa dove può arrivare o dove non a volte senza nulla togliere il vostro lavoro perché lo fate veramente in modo egregio eccezionale però ogni tanto forse siete voi a mettere la pressione a noi che i corridori perché magari noi non ci pensiamo venite a tirarci fuori cose che magari non pensiamo neanche poi magari stai lì ci pensi e allora ti logori un po' a volte devi staccare le due cose e dire ok sai sai dove puoi arrivare cosa puoi fare magari di sicuro già la settimana scorsa a Romandia se non avessi fatto il grande blocco che ho fatto in pista facendo palestra facendo tanti lavori lattaciti in partenza brevi ma intensi che serviranno poi per il quartetto magari sarei potuto essere subito competitivo però dobbiamo renderci conto che voglio questa sfida dell'Olimpiade ho due medaglie d'oro da giocarmi e voglio farlo fino in fondo quindi se sarà così bene se non dovessero arrivare comunque sarà stato un esperimento per me e saprò che per un futuro magari dovrò preparare una o l'altra però fino a quel momento credete nelle mie possibilità non dateci non dateci a me alla nazionale alla squadra pressioni e speriamo di farvi divertire poi a luglio So the question was Filippo anche you sustain such a workload and also so many responsibilities as a rider and the answer was a rider knows very well his limit both physically and mentally sometimes it's you the journalist that puts pressure on the riders sometimes you need to unplug and understand better what you can and what you cannot maybe if I haven't done so much specific training at the gym on the track maybe I could have done I could have been better at Romandia but I really want to try this challenge of the Olympic Games there are two gold medals that I want to try to get and I really want to try to realize it Dalla Stampa Ciao Filippo Si sente? Ciao Filippo sono Filippo Kautz di Bidon lo scorso anno avete dominato il Giro d'Italia con la squadra dando l'impressione di una comunità di una grande unione di intenti all'interno della squadra una grande collaborazione quest'anno la squadra è cambiata sono due capitani diversi anche i gregari sono diversi quanto c'è dell'atmosfera che c'era sul pullman l'anno scorso nella Ineos di quest'anno Sai alla fine l'anno scorso al quinto giorno abbiamo cominciato a creare questo gruppo perché dopo la perdita di Thomas per il suo incidente abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di pensare e tutto quindi magari avremo bisogno di un attimo più di tempo questi tre giorni prima della partenza di oggi sai sono un po' noiosi perché alla fine ti alleni poco sei sempre in stanza vai a fare il massaggio ti vedi soltanto per mangiare e per l'allenamento adesso comincerà il giro però sono fiducioso l'ho già detto diverse volte cercherò di essere magari quell'elemento che ti darà morale quando non ci sarà perché logicamente i capitani al contrario mio non possono mai fare gruppetto quando è una giornata e no quindi quel giorno in cui loro magari saranno più giù di testa che saranno più giù di gambe dovrò essere lì pronto a sopportarli e sopportarli anche perché magari mi manderanno quel paese facilmente però fa parte dello sport e so che non lo fanno con chitti veri ma lo faranno perché in quel momento c'è il nervosismo da qui voglio soltanto dire che non non abbiamo pressioni a livello a grande livello diciamo siamo qua per vincere non siamo qua per fare secondi logicamente però se riusciamo a switchare la testa e dire cominciamo anche a divertirci se ti diverti le cose vengono molto più facilmente perché abbiamo particolare pressione ma vogliamo vincere non siamo qui per essere secondi ciro bentornato grazie è un impegno io edoardo abbiamo un bellissimo rapporto siamo cresciuti assieme io ho preso randellate lui e lui le ha date a me quindi c'è questo rispetto il reciproco che fa bene mi piace ridendo gli ho detto lasciamela almeno tre giorni perché siamo veramente al distacco minimi e mia dice ma chi te la porta via qualcuno prima o poi me la porterà via perché se no sarei qua a fare classifica però ripeto con Edoardo c'è un bellissimo rapporto e so io ero primo a essere felice se lui avesse vinto e sono sicuro che altrettanto vale per lui ultima domanda last question I will translate after the last two questions so that we can get one more from Filippo abbiamo Gaia Piccardi del Corriere della Sera ciao Filippo senti rispetto alla maglia rosa dell'anno scorso a Palermo questa è più dolce è più amara che sapore ha paragonata rispetto a quella dell'anno scorso che credo sia tutt'oggi insieme al mondiale la più grande gioia della tua carriera non so se sono daltonico ma mi sembra più rosa quindi sono felice di averlo sulle mie spalle e di sicuro è stata più voluta nel senso sono partito da casa con un unico intento che era quello di vincerla quindi sono arrivato qua ce l'ho fatta vincerla e la cosa mi dà molto più morale per questo giro non nascondo che se avessi perso magari nei prossimi giorni di testa sarei stato un po' più a livelli bassi non so come spiegarlo un po' più sconfitto mentalmente magari anche di umore sarei stato un po' più alterato questo aiuta tanto e quindi aiuterà anche per i prossimi venti giorni a venire grazie Filippo grazie complimenti ancora so last question was the first one eduarda finisce second today you think that he also dreamt about wearing this maya rosa and the answer yes of course like everyone that was here and they thought that could do well at the ITT eduarda and I we grew up together we challenge each other many times sometimes I win sometimes he wins last question how can you compare the last to this to maya rosa this one and the one you wore last year after palermo ITT and he answered I think this one looks more more pink I'm very happy to wear maya rosa now I really wanted to wear it I really wanted to do a boost to my confidence and I think that without this maya rosa probably the next few days that would have been more complex grazie thank you thank you